Sì, adesso non va a cercare l'anticipio su Pellinelli, una prima volta riesce, si va allora da l'altra parte per Pellinelli, valgo di Fadum ed è Pellinelli che ci voleva per muovere la difesa per trai. Pellinelli di prima opzione, prendere e attaccare, prendere e tirare, quello che c'è istinto. Senza ragionare troppo, time out Francia, più 3 Italia, 1 minuto e 42 all'intervallo, primo piano di Marco Pellinelli, ha cercato disperatamente il tiro per tutte le prime giornate dell'europeo è sceso a percentuali inconscrete per lui, oggi entra 3 su 5 totale.